Eccoci qua zia, oggi si lavora, oggi si lavora, è il 2015 appena iniziato, ieri era la tua festa giusto? Oggi faccio, mangio la cioccolata perché ieri era la mia festa. Ecco, cosa mangiamo oggi? Il ciobar, la cioccolata, il ciobar, i cubetti, cosa è? Abbiamo da provare la novità, ciobar da mordere. Al cioccolato, questo qua zia, non è cioccolata cremosa, questo è da mangiare proprio. Naturale. Non naturale, è da mangiare. Da mangiare? Sì, verrà fuori tipo un muffin. Nel latte. Adesso proviamo a vedere, dammi qua che leggiamo le istruzioni. Sì. Amica. Mi ci potete fare un'altra visione. Sì, sì, è nuovo, è nuovo. Allora, come si prepara? Ci servono 50 ml di latte parzialmente scremato da versare in una tazza. Aggiungere la miscela, mescolare e buttare nel microonde. Lascia raffreddare due minuti e dopo si mangia dalla tazza. Adesso cominciamo. Pronta? Pronta, sì. Allora, andiamo a prendere tutto. La tazza e il latte. Aprile, aprile. Aprile, spacca, spaccale. Allora, un cucchiaio. Tira fuori uno. Allora. Dove c'è la tua vai? No. Cinque cucchiai? Vi ho detto incaocchio. E di questo, qua sotto? Uno, due, tre, quattro e cinque. Ok, adesso prendiamo una busta. Sì, per non fare la tovaglia. Sì. Apri la busta, zia. Cosa c'è dentro la busta, secondo te? Eh, io non la piace, sicuramente. Ma cosa ci sarà dentro? Zia. Eh? C'è una roba marrone dentro. Ma è cioccolato qua dentro. La fabbrica è di cioccolato. Oppure? Cosa dici tu sempre? Una roba marrone. Sì, ma è cioccolato, no? O cioccolata, o? Eh, è ciubare. No, una roba marrone. No, marrone, della cosa è... E dici sempre tu. Mi arde, no? Dio buono. Adesso mettiamo la busta nel latte qua. E poi se non la marrone gli ha detto che era tutta fabbrica di cioccolato. Ecco, a posto. Tieni qua, capo. Adesso mescoliamo il tutto. Mi sento tutto in sangue. No, no, a posto. Tu devi fare solo una roba. Il tuo roba che ti piace. Legga il cucchiaio. Mangia. Eccoli. Allora, microonde. Vediamo qua, temperatura, tempistiche. 750 gradi, un minuto e venti. Oppure a mille. Ti ho già scontato a pezzo. Sì. Allora, vediamo qua. 750, sarà lì così? Se 5,60, sì. Un minuto e venti. Il microonde non va. Stacca la spina qua. Eccolo. Intanto che lui gira là nel microonde, raccontami una storia, zia. Raccontami una storia. Dimmi. Ma il tic-tac non mi vengono le sue storie. Ma una storia qualsiasi, intanto che il chobar si prepara, no? Niente. Ma adesso mi vengono le sue niente. Boh, raccontami che vuoi buttare via quel telefono lì, che non ti trovi niente bene. Quando mi viene qualcosa in mente di telefono ti dico. Ma no, raccontami del telefono, che non si sente niente. Ma io ho il telefono, che mi hai speso tanti soldi e non capisco niente. Non mi hai preso uno come quello di prima, che andava un po' meglio. Ma ti ho detto che quello di prima non è più in fabbricazione. Quello lì? Eh. Eh, io cerco di poter capire, non arrivo. Senta la voce, mamma, io sono sorda, la terza non arriva. Hai Vilma? Sì. Hai Vilma, no? Sì. Eh. Adesso è papinata io. Hai fame? Eh, adesso no, ho già mangiato niente. Eh, ma io ti ho telefonato ieri, ti ho detto di non fare colazione. Eh, tu mi hai detto di fare il pranzo. Eh, tu hai capito pranzo. Vieni. Dio buono, zia. Eh, ridi, ridi tu. Eh, hai detto a piangere. E non potrei fare niente, potrei sentire. Non si può, perché la testa è come che non puoi fare niente. Pronto. Vediamo qua cosa viene fuori. Uh, è Luca che l'è. Eccolo pronto, zia. Sì, scotta, eh. Sì, scotta, scotta, non stato c'è, non stato c'è. Questa è la tua scodella che hai messo. La volevi sempre piena di latte, la volevi quella scodella lì. Ti ricordi che la volevi piena di latte? Sì, allora, facciamo vedere qua i miei cercati. E dai, butta ancora, butta ancora, zia, mi dicevi, butta ancora il latte. Adesso niente, adesso il latte è cattivo. Allora, è tutto spumoso qua, zia. Eh? È tutto spumoso, sembra biel. Sì. Adesso mettilo qua, appoggialo lì che scotta. Adesso con il cucchiaio tiriamo su una gran patta. Eh, scotta. Eh, so, ma tira su, tira su il cucchiaio. Ma così si mangia, questa va fissa? È fissa, è fissa, sì. È un uovo questo. Non è che Giovanni si fa bene come il latte. No, no, è un'altra roba. Qua si mangia. Va bene, per andare in quel posto. Oh, mangia. Sta a mettere tanta roba su. Dopo non ti sta in bocca. Sta buono. Dov'è il tuo cucchiaio? Aspetta che ti prendo il tuo cucchiaio, zia. Sta a pecare. Dammi quel grande a me. Dai, mangia. Ma è proprio una sera chiara. Eh. Se viene più chiaro, è più buono. Eh, ma è cacao, no bianco. Non è cioccolato bianco, è cacao. Può c'è la dose per più il latte. No, no, è giusto così, zia. Deve venire solido. Com'è? Non è cattivo. Beh, non ti vedo contenta. Zia. Eh, perché è cioccolato dura mi fare questa. Ma quello è il ciobar normale. Questo è novità. Ciobar da mordere, c'è scritto. Tu? Hai capito. Ciobar da mordere. Da mordere, hai capito. Scotta ma se. Scotta se. Ma è buono. Scolato io. Dove hai scolato? Dove è andato? Qui che l'è. Da urca, lì. Qui. Tu, sapete? Dammi la mano. Anche per le prime rende, c'è. Quindi? Una tua opinione. La mia opinione è che non è cattiva. Però? Solo se era più tenero era meglio. Più scolevole. Quindi, un saluto a tutti. Sì. E alla prossima. Alla prossima. Alla prossima, bevanna. Ciao. È la mia festa. Ciao capo. E saluta, no? Sì. Ciao. 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 Ciao.